Adesivi con Salvini impiccato a testa in giù con Trump, Erdogan e Netanyahu Negli ultimi giorni a Pavia sono comparsi degli adesivi, applicati su muri e pali in giro per la città, in cui, su uno sfondo rosso, sono ritratti i volti di Matteo Salvini, leader della Lega, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. . La particolarità è che sono appesi a testa in giù. . Il disegno è accompagnato dalla scritta Make Fascists Swing Again, traducibile con Facciamo pensolare di nuovo i fascisti e rifà il verso allo slogan della campagna elettorale di Donald Trump Make America Greta Gain. . E' stato lo stesso Matteo Salvini a pubblicare la foto degli adesivi su suoi account social commentando. . Salvini a testa in giù per le vie di Pavia. . . Idioti e vigliacchi, non ci fate paura. . . Io vado avanti. . . . Sul caso sta indagando la Digos, che a Pavia è alle prese anche con un'altra indagine, cominciata prima delle elezioni del 4 marzo, partita dopo che all'ingresso di una ventina di abitazioni di esponenti della sinistra locale erano stati a posti degli adesivi con la scritta Qui ci abita un antifascista.